Proprio quello, bello! Ecco, ti pareva! Per prima cosa, scegliete un compagno d'uscita! Anche tu ce l'hai, un compagno d'uscita? Sì! Bene! Adesso Guizzo vi riassumerà le modalità per una corretta tecnica d'uscita! Buon pomeriggio a tutti! Oggi faremo un lancio fantastico! Ok, appena beccate la parete, fate un caffè! La curva sul fondo è tosta, quindi fate attenzione! E ricordate, ripate, rollate e poi roppate! Sta cercando di dirmi qualcosa, me lo sento! Sai, sei proprio carino, ma non capisco cosa stai dicendo! Ricomincia da capo! Ora salta, Medusa! Vai, 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 vai! È stato bello! Mi sono divertito un sacco! Ehi, guarda! Tocca giughe! Ha ha! Ottima esecuzione! Ora giratevi dall'altra parte e nuotate sempre dritto fino a Sydney! Su con la vita, bello! Su con la vita e grazie a te, bello! Ciao! Sì! Porta i miei saluti a tuo figlio, ok? Ciao! Ci vediamo, belli! Ciao a tutti! 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 Ciao a tutti!